Noi possiamo fare un campionato importante, poi il tutto dipende da quanto ci possiamo migliorare. Per quanto riguarda il mercato, se mi parlate di attaccanti centrali, vi rispondo di no. E nemmeno ci penso, perché qualcuno, io leggo anche io quello che giustamente voi scrivete, perché ci mancherebbe, ognuno ha la sua idea sul calcio, no? Però io vado a vedere Prescia, ha fatto 11 gol non giocando sempre. No? Maniera ha fatto 10 gol non giocando sempre. Ma ce n'è tanti meglio di loro? Poi c'è un ragazzo, sì, che avrà prospettiva, che è stato preso dal direttore, ma che conoscevamo tutti, che è questo Gagliano, che gli dobbiamo dare tempo di crescere. Poi non so se Messina va via, ma Messina non è un esterno, Messina è un attaccante, con buone caratteristiche. Quindi vuole più tre quartisti? No, io voglio uno, come sa il direttore. Io non voglio niente, parliamoci chiaramente. Ma che tra... non voglio tre quartisti, io voglio gente in grado di sostituire all'occorrenza sia Mikoski che Canutè. Basta, i giochi qua sono fatti. Ora dobbiamo solo parlare sul campo. La squadra è stata attrezzata per fare un campionato importante. Abbiamo fatto una partita ufficiale, non mi sembra che l'Avellino l'abbia fatta male. Anzi, perciò un po' le amichevoli servono a mettere qualcosa nelle gambe, se no li facciamo solo allenare questi ragazzi. Allora, continueremo a fare gli amichevoli per far giocare quelli che giocano meno. Ma però la nostra base ce l'abbiamo bene in testa. Mikoski c'è da lavorarci. C'è da lavorarci perché è stato anche fermo 4-5 giorni quando è stato là dove l'avevano parcheggiato. Poi ha fatto sì una preparazione, l'ha fatto con una squadra. Giocare e tenere certi ritmi è un po' diverso. Però verrà convocato, sarà con noi. Vediamo se è anche il caso di farlo iniziare una mezz'oretta, 40 minuti. Questo penso ci abbia ora come ora nelle gambe. Scogna Miglio oggi si aggrega il gruppo, ha fatto il lavoro a parte tutta la settimana, lavorando molto e oggi secondo me verrà nel gruppo e vediamo come sta. De Francesco è nel gruppo, se c'è la possibilità di giocare gioca, perché è un professionista. Poi vediamo da qui alla fine del mercato, non lo so quello che può succedere. Nel mercato può succedere tutto e il contrario di tutto nell'arco di due ore. Perciò non lo so, in questo momento è un giocatore dell'Avellino, se c'è bisogno gioca.